Debito del comune di Biella ha raggiunto i 68 milioni di euro. Sono denari in gran parte spesi senza una strategia di fondo. Soldi che poco o nulla hanno giovato alla vita dei cittadini. Dobbiamo cambiare, per noi e soprattutto per i nostri figli. Con noi Biella rinasce, a partire proprio da te. Grazie a tutti.